musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi un video un pochettino più particolare perché è arrivato un pacco enorme pacco gigante direttamente dalla calabria ce l'ha mandato il signor Miki Tropea che è un ragazzo che sta spesso nelle mie live su twitch e ha detto mi hai mangiato l'anduia calabrese ci penso io ha detto ma non ti devi preoccupare ci penso io ha detto e mi ha mandato un pacco e lo volevo aprire insieme no? allora un secondo qua sto distruggendo sto distruggendo tutto l'ha incartato in una maniera veramente unbelievable mi sembra natale eeeh allora se è un pacco bomba e dovesse esplodere vi ho voluto bene a tutti ragazzi e sappiatelo andiamo vi ho voluto un sacco bene allora un momento un momento minchia aspetta che l'ha chiuso l'ha chiuso di nuovo guarda che non è facile proprio fare questo unboxing ok ok siamo ad un'altra scatola ok siamo alla scatola numero 2 number two number two or io non so se si possa ribaltare ma l'ho ribaltato siamo arrivati all'apertura del oh no 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 tutto a posto non c'è niente all'apertura del del coso un momento un momento ok oh eeeh ehi 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 c'è della roba ehi c'è della roba c'è della roba c'è della roba c'è della roba attenzione attenzione uuuu uuuu che bella gossa a c'è buddai direttamente dalla calabria signori abbiamo questo bellissimo parure di cipolle rosse I like I like really really so much le appoggiamo qua aspetta che il guagen erhalter ah ha utilizzato ha utilizzato le cipolle al posto della carta dell'imballaggio piano 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 c'è C'è un altro un'altra parure di cipolle MINGA SIN D'ACCAAA SIN D'ACCAAA Ma che meraviglia ragazzi figa ho 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 cipolle per un mese e mezzo Aspetta c'è una cosa c'è un'altra c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa dentro C'è un'altra cosa dentro porca porca Taranana 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 Whataaaa Chi sta è la NUIA CALAPRESS Ed eccola qua mickey lei è veramente un pazzone È veramente un pazzone È caduto qualche cosa io non Beh ovviamente non si sentono e ci siete profumo e anche se non È bella morbida ma che roba la mettiamo qua sopra le cipolle C'è un'altra cosa dentro e c'è un'altra cosa ancora dentro È chiuso è chiuso è chiuso è chiuso è chiuso Non so che cosa sia aprire piano Sarà proprio deve essere qualcosa per evitare Che si Oh Eravamo al contrario Eravamo al contrario Eravamo al contrario Figa Guarda qua Sbam La bomba calabrese Voglia di calabria La bomba con la Con la o di bomba Fatta come una bomba Del calabrese È ottima per Primi piatti Carni Bruschette Pizze Formaggi E contorni Porcaccia evo porcaccia Porcaccia evo porcaccia Sbam E poi c'è anche una roba sotto C'è una roba sotto Che è la base Eeeh ma che meraviglia Queste sono bellissime Tre cartoline Direttamente dall'isola di Tropea Guardate che meraviglia Guardate che meraviglia Una Due E tre Tre cartoline Di Tropea Io credo che sia tutto Michi Grazie Perché è una cosa che Dai Grazie 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 E Tutti quelli che hanno guardato il video Ragazzi vi ringrazio per averlo guardato Ragazzi live su Twitter Twitch non sto andando via Mando solamente l'outro E Ci vediamo ovviamente In live su Twitch Ciao Non trovo il tasto Ciao Ciao Grazie a tutti